Ma io voglio veramente ringraziare per questo percorso che abbiamo fatto e che abbiamo iniziato appunto di collaborazione tra gli uffici e molti dei presenti sanno che già il fatto che gli uffici collaborano è già mezzo miracolo perché non è mai facile che collaborano. Ci siamo ben divisi i compiti, io facevo il censore, insomma ho potuto censurare abbastanza, scherziamo un po' perché è sempre importante scherzare. Voglio ringraziare perché sono contento di questo percorso, come è iniziato, come si è svolto la partecipazione, i relatori, tutti di grande livello, in particolare gli ultimi, mi permetto di dire quelli di oggi, ma sono contento anche della conclusione col tema della gratuità perché da lì si parte e da lì si arriva. La gratuità io penso sia la parola riassuntiva del Vangelo, del Vangelo, no? Il nostro Signore in croce ci ha andato gratuitamente, non ci ha andato per nello suo interesse, no? E tutti noi che abbiamo un po' di esperienza sul campo, no? Sappiamo che la gratuità, solo la gratuità può creare legami veri e duraturi, questo non c'è dubbio, guardate, io lo dico con grande chiarezza, solo la gratuità può creare legami veri e duraturi. Ma non soltanto legami del matrimonio, ma soprattutto legami sociali, legami sociali, questo lo vediamo benissimo, no? Sono contento perché questi incontri abbiamo toccato con mano che le periferie non sono prima di tutto un problema, sono una risorsa, perché lì c'è tanta gratuità, lì ci sono tanti legami sociali veri, forti e duraturi, questa è una cosa molto bella, no? E abbiamo anche toccato un po' anche stasera il tema del volontariato, a questo immenso mondo del volontariato, lì ci sono maestri di gratuità, ci sono maestri di legami sociali veri e duraturi, no? Perché purtroppo ci sono tanti legami non solo non duraturi, ma anche non veri. Ecco, ripeto, la gratuità forse è la chiave d'accesso per i legami, ripeto, veri e duraturi, intendo soprattutto quelli sociali, no? Don Bruno poi ha toccato il tema del lavoro e della politica che, diciamo, non ho capito se per fortuna o purtroppo interessa molto il mio servizio sacerdotale e sono delle priorità, diciamo così, alla quale la Chiesa italiana è molto opinionata. Io vi suggerirei di leggere il testo dei Vescovi di quest'anno per la giornata del primo maggio, non solo quello di quest'anno ma anche quello dell'anno scorso, sono due testi straordinari. Guardate che non è scontato, tanto qui Don Matteo non ci sente, non è scontato che i Vescovi parlano con questa chiarezza, no? Ecco, io vi invito a leggere gli ultimi due messaggi del primo maggio, sono veramente straordinari. Questo di quest'anno cita l'ipotinemia e parla delle mettere cuore il lavoro. Ecco, io voglio ringraziare perché in questi incontri tutti hanno messo il loro cuore, tutti hanno messo il loro cuore, no? Per toccare queste tematiche che abbiamo, diciamo così, magari sono accennato, ma che abbiamo preso a cuore. Per questo concluderei citando un'espressione che, sapete, mi piace sempre molto scherzare, sul generale Don Bruno quando lo faranno Vescovo di farlo come motto Vescovale. Guardate cosa scrive Papa Francesco sulla Laudato Si, no? Laudato Si che, insomma, è un testo più che profetico, più che profetico, no? Sentite cosa dice nel primo capitolo, il titolo Cosa sta accadendo alla Casa Comune, numero 19. Io penso che vada bene per quello che ci siamo detti in questi incontri, anche come prospettiva per il nostro servizio nei vari ambiti. Quindi il Papa dice una cosa straordinaria, io penso che questo sia il metodo, questo sia il metodo. Sentite cosa dice? Lui ha dilato un po' la problematica, no? Poi dice l'obiettivo, questo vale anche per noi, non è di raccogliere informazioni o sassiare la nostra curiosità. Apo parentesi, quanta gente che si infila, quanti curiosi che si infilano dentro la Chiesa, ma poi non importa nulla, no? Sentite cosa dice il Papa, l'obiettivo è prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo. Guardate, questo è un testo mistico, laudato Si è un testo mistico. Ecco, non solo l'obiettivo ma il metodo, prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo, non quello che accade solo a te o al tuo gruppetto, alla tua parrocchia, al gruppo tuo, no? Questo è anche l'augurio che faccio a me stesso e a tutti voi, di avere il coraggio di soffrire per questo, no? Di avere sulle spalle il peso del mondo intero, ognuno nelle sue competenze, perché così tutti insieme questo mondo lo possiamo veramente trasformare, con quella parola che il Papa ci dice di usare con coraggio che è rivoluzione culturale. Grazie di cuore a tutti.